Oggi abbiamo portato l'integrazione interculturale in piazza, forse era questo l'obiettivo prioritario che ci stavamo prefigendo? Io credo che una delle cartine di tornasole della convivenza civile fondata su diritti fondamentali sia proprio questa capacità di riconoscersi nella dignità di persone e di creare il tessuto perché la vita comune sia una buona vita comune. Quindi il nostro tavolo di pace della provincia, tutti gli sforzi che stanno facendo in qualche modo, si sta mostrando anche oggi qua in piazza. Ma io credo che sia un concorso di atteggiamenti, di scelte, di comportamenti virtuosi perché altrimenti la pace è uno slogan, bisogna che sia verificata proprio nella vita quotidiana. Grazie, grazie a me.